Frio e Fettuti sono Octi di Pura Fibra Italiana Saluto Luca Piazza Saluto anche Macumberogamer Che ci fa anche delle domande E ti rispondo proprio in questo momento Al posto di risponderti magari iscrivendoti Per farmare materiali Dipende dal materiale che devi farmare Se devi farmare metallo e robe vai in una città Se devi farmare legno Vai in una foresta E se devi farmare pietra vanno bene entrambi Perché in entrambi o ci sono edifici o pietre Quindi comunque vanno bene entrambi E per finire saluto SlenderboyTV Che ci scrive bravo fai sempre dei bei video Grazie grazie Se arriviamo a 2000 like in questo video Nel prossimo video saluterò altri 3 di voi Che hanno commentato sotto il video E magari risponderò ad altri di voi invece In questo video vedremo una delle domande Che mi fate più spesso nei video di Fortnite salva il mondo Ossia come farmare V-Bucks tramite il salva il mondo Perché l'ho comprato da poco E non so benissimo come farmare Questa guida è quella che fa per te E se anche sei un giocatore magari più esperto Comunque potresti sentire un metodo Di questi qua che elencherò tra poco Che veramente non penso tanta gente conosca Seguendo alla lettera questi metodi Otterrete circa 1500 A volte di meno a volte di più V-Bucks A settimana Quindi comunque davvero tanto Semplicemente giocando a un gioco Vi permette di comprarvi diciamo Una skin di Battle Royale A settimana circa Ma la prima cosa che voglio assolutamente dire In questo video è che se tutti voi Che state guardando questo video Non avete salva il mondo E state pensando di comprarlo Solo per appunto comprare le skin su Battle Royale Quindi per fare V-Bucks solo per Battle Royale Ve lo sconsiglio assolutamente Questo per un motivo molto semplice Fare V-Bucks su salva il mondo Se vi divertite a giocarci Li fate e non ve ne rendete neanche conto Di quanto velocemente magari ci mettete a farli Tuttavia se avete l'unico obiettivo Di fare V-Bucks per comprarvi le skin Vi renderete conto di quanto vi annoierete E di quanto tempo ci metterete a fare V-Bucks Perché veramente se l'unico vostro obiettivo Quello di fare V-Bucks Non comprate il gioco Veramente Compratelo solo se avete voglia Di giocare a qualcosa di nuovo Se volete solo fare V-Bucks Ve lo sconsiglio assolutamente Perché per fare V-Bucks Comunque dovete fare anche missioni Della campagna Che non vi danno V-Bucks E questo per voi sarà una perdita di tempo Eviterete di farlo E finirete come me Che per tantissimo ho avuto salva il mondo E non ci giocavo Non mi divertivo Lo usavo solo per fare V-Bucks Ma ne facevo pochissimi E quindi alla fine è come se non avesse avuto senso averlo Inoltre è importante permettere anche un'altra cosa Tuttavia non è sicura al 100% Si vocifera Ormai l'ho letto da un sacco di parti Che chi non compra salva il mondo ora Quando diventerà gratis Non avrà le missioni che permettono di ottenere V-Bucks Quindi chi ce l'ha già perché l'ha già comprato Avrà le missioni che permettono di fare V-Bucks anche dopo Chi non l'ha comprato Non le avrà anche dopo Questo per premiare tutti coloro che hanno comprato il gioco in passato Almeno così si vocifera Non è sicuro al 100% Ma sarà molto probabilmente così Vediamo dunque adesso i vari metodi per fare V-Bucks all'interno del gioco Ed il primo chiaramente sono le missioni giornaliere Queste infatti ogni giorno ce ne verrà assegnata una nuova Fino a un massimo di 3 possibili insomma da tenere E ci garantiscono dai 50 ai 60 ai 100 V-Bucks Ovviamente questo è il metodo giornaliero Ma ce ne sono anche altri sia ripetibili che non ripetibili all'interno di Forno di Salva il Mondo Per esempio ci sono le sfide Questi sono incarichi ripetibili che ogni tot missioni Ogni tot cose che facciamo ci garantiscono 30-50 volte anche di più V-Bucks Sono cifre piccole a prima occhiata Ma fidatevi che sommandole tutte insieme Giocando a Salva il Mondo Ne farete così tante che non vi renderete conto neanche di quanto in fretta alla fine Ripetete queste missioni Quindi fate questi V-Bucks E non guardate mai che ne ho solo 5 perché io spendo tutti i miei V-Bucks nei Lama di Salva il Mondo Quindi è inutile che dite Eh ma tu dici di avere un sacco di V-Bucks e poi alla fine ne hai pochi Se andate a vedervi qualche video fa vedrete che avevo circa 2000 e passa V-Bucks Alla fine li ho spesi tutti diciamo per i Lama Ma di questo ne parleremo dopo A parte gli incarichi giornalieri e le sfide inoltre ci sono altre cose che ci permettono di ottenere V-Bucks su Salva il Mondo Queste sono gli incarichi secondari e primari Infatti progredendo nella campagna di gioco ci verranno fornite missioni che garantiscono dai 100 ai 150 V-Bucks Quindi o 100 o 150 V-Bucks Solo completando tipo una missione Quindi in circa 10-15 minuti avete già fatto 100-150 V-Bucks Chiaramente qua tanti giocatori diciamo non c'hanno voglia perché queste missioni non è che le trovate ogni 2 secondi Ogni tot missioni c'è una che vi garantisce 150 V-Bucks E qua tanti giocatori che vogliono fare Salva il Mondo solo per le skin di Battle Royale Dicono eh ma che perdita di tempo non ho voglia di giocare eccetera eccetera E anche io ero di questi poi ho capito che sbagliavo di grosso E per finire per quanto riguarda le sfide di tanto in tanto ci sono gli eventi su Salva il Mondo E questi eventi hanno degli incarichi che ci garantiscono dei V-Bucks Per esempio questa missione qua ce ne garantisce 100 Ce ne sono altre che ce ne garantiscono di più altre che di meno Ma chiaramente non è tutto infatti ce ne sono anche altri metodi che adesso vi vado a spiegare Man mano che aggiungiamo cosa al nostro registro raccolta Chi di voi già se ne intende un po' di più Invece per gli altri lascio un link a un video sia in descrizione che nelle schede di questo video Basta cliccare sulla i col puntino cerchiato di bianco E trovare nella lista di video appunto la guida per principianti a Salva il Mondo Perché proprio quella guida vi spiegherà un po' a cosa serve il registro raccolta Man mano che aggiungiamo cosa al registro raccolta ci vengono date delle ricompense Queste ricompense possono essere anche dei V-Bucks A volte ce ne sono 150, a volte 300, a volte 400 A volte 800 e per finire anche 1200 È raro, mi sarà capitato uno massimo due volte Però comunque 1200 V-Bucks sono tanti Ed è il momento di passare a un metodo segreto Diciamo che comunque tantissimi giocatori non conoscono Neanche quelli più veterani Scommetto che veramente pochi di voi o quasi nessuno saprà di questo metodo Scrivetemi nei commenti se invece già lo conoscevate Ehi tu, se il video ti sta piacendo considera l'idea di iscriverti a questo canale Ma ricorda di attivare anche la campanella così da non perderti altri video come questo qui È semplicissimo e a te non costa proprio niente Scusami se ti ho disturbato e adesso ti lascio al video Ciao, ciao, ciao Nella sezione mappa, nelle varie zone È possibile trovare delle missioni che ci garantiscono V-Bucks Di solito non superano i 100 Ma comunque sono dei V-Bucks gratis in più Solo per aver giocato a Salve al Mondo Ovviamente uno non ha tutto il tempo di stare lì a guardare ogni singola Nella mappa, ogni singola zona Ogni singola missione per controllare se qualcuna di esse dà V-Bucks Quindi quello che vi consiglio io è di andare sul sito StormShield1 Che io leggo StormShield1 perché veramente, cioè, fa ridere Comunque trovate il link in descrizione È un sito semplice, non dovete registrare niente È completamente gratis, cioè non dovete fare assolutamente nulla Cliccate solo su Salve al Mondo E in tempo reale vi darà un resoconto di tutte le missioni Di tutte le zone, quindi Tavolaccia, Pietralegno, Vallarguta, Montespago Tutte le zone e tutte le missioni e tutto quello che forniscono le varie missioni In quella tabella che state vedendo è possibile vedere direttamente In quale zona ci sono missioni che danno V-Bucks e quanti ne danno Purtroppo al momento della realizzazione del video ce ne erano zero Ma ogni 8 ore si aggiorna Diciamo, si aggiorano le missioni su Salve al Mondo E quindi è possibile avere delle missioni che forniscono V-Bucks Ogni volta che accedo a Salve al Mondo Controllo sempre il sito, tanto ci metto un attimo E guardo se ci sono missioni che danno V-Bucks E l'ultimo consiglio che vi do, quello diciamo più importante È di entrare ogni giorno su Salve al Mondo Non per forza per giocare eccetera Ma di entrare semplicemente Perché ogni giorno riceverete una ricompensa giornaliera Ma a differenza di tanti giochi dove le ricompense giornaliere Vanno ad accumulo, quindi si accumula questo con questo eccetera eccetera Su Salve al Mondo invece è un po' diversa la faccenda Infatti se per esempio io gioco oggi, domani non gioco Ma dopo domani gioco è come se avessi giocato due giorni diciamo di FIA In pratica quindi non importa se magari un giorno non riuscite proprio a entrare Però cercate di entrare quanti più volte possibili Perché ogni giorno che entrate vi dà una ricompensa E questa ricompensa a volte sono V-Bucks E sono parecchi V-Bucks Cioè io ne ho ricevuti 300, 400, anche 900 Solamente perché sono entrato nel gioco Quindi veramente semplicissimo Entrate ogni giorno Ripeto anche se non potete giocare giusto È due click giusto Entrate due secondi, cosa ci vuole Alla fine senza neanche giocare Comunque farmate V-Bucks anche solo in questo semplice modo E questi insomma erano i metodi per farmare V-Bucks su Salve al Mondo E io chiaramente vi invito a diffidare di tutti gli altri metodi strani Che vengono suggeriti con applicazioni strane, cose del genere Soprattutto non credete neanche ai video di programmatori mondiali Che sostengono di avere app per generare V-Bucks che alla fine nessuno ha mai visto Ne ha mai visto funzionare Se siete arrivati fino a questo punto del video vi dico che ho deciso di inserire nei miei video il famosissimo commento ignorante Che è un'idea presa un po' da Yuki di Shikokujin e da Fra di Shikokujin, un altro canale dei nostri amici In cosa consiste? Semplicemente in ogni video vi dirò verso la fine del video un commento ignorante E voi dovete commentare appunto con quel commento E i più originali, i più bellini, quelli che mi fanno più ridere riceveranno una risposta Comunque magari un cuoricino Quindi partiamo subito Il commento ignorante di questo video è V-Bucks appalate E voi dovete completare la frase con una rima Per esempio quindi V-Bucks appalate ti prendo a badilate Questo è un esempio stupido che mi è venuto in mente Però diciamo ci siamo capiti Dovete scrivere V-Bucks appalate E poi qualcosa che faccia rima appunto con palate E quindi via la sfida Anche oggi ringraziamo la porra Filipe dell'Anastron qua Grazie mille per essere iscritti Noi siamo già in 160.000 Cresciamo sempre di più Commentate sotto questo video scrivendomi come utilizzate voi V-Bucks che farmate su Salve il Mondo Comprate i lama oppure comprate le skin su Battle Royale Lasciate un mi piace Condividete questo video con i vostri amici e compagni di team E noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao Ciao